Non si è lasciato intimorire dalla pistola che i due banditi ne hanno puntato in faccia, è riuscito a divincolarsi, ne è nata una collutazione, li ha disarmati e seppur ferito, è riuscito a mettere in fuga le due persone che poco dopo la mezzanotte hanno tentato di portarli via alla sua BMW. Il tentativo di rapina sulla provinciale Vernole Acquarica, la vittima, un 35enne di Vernole, che a bordo della sua auto tornava a casa nel cuore della notte. All'improvviso si è trovato davanti due persone che sul ciglio della strada si sbracciavano chiedendo aiuto. Accanto un'Audi ferma, rimasta in panne, secondo il loro racconto, e con questo stratagemma che i due hanno convinto il ragazzo a fermarsi a quell'ora, sulla strada deserta, non avrebbero trovato nessuno disposto ad aiutarli. Una volta sceso dall'auto, però, il 35enne si è visto puntare contro una pistola, ma non si è perso d'animo. Ha reagito, non è nata una collutazione, durante la quale i banditi hanno perso la pistola. Sono fuggiti a mani vuote, facendo perdere le tracce a bordo dell'Audi, ora attivamente ricercata. Pochi minuti, i carabinieri della compagnia di Lecce sono arrivati sul posto recuperando l'arma. Una pistola giocattolo che ora sarà analizzata alla ricerca di impronte. Il 35enne è stato accompagnato al Vito Fazzi, dove è stato medicato per delle piccole lesioni rimediate durante la collutazione. Ha fornito agli inquirenti anche una descrizione precisa dei due e ora sono in corso le indagini. Grazie a tutti.